Io sono Daniel di Wapy Organics Oggi vi farò vedere come spruzzare a queste piantine di pomodoro il prodotto Wapy Organics Sono già state trattate ma dal seme E oggi vi farò vedere come si trattano dalla foglia Per creare il prodotto Wapy Organics che sarebbe questo Dobbiamo usare 3 melle di buffer e di formula E dovete avere un misurino da 5 melle ma noi usiamo 3 melle E le mettiamo in uno spruzzino come questo Ok ragazzi qui ci sono anche le piantine non trattate Che sono queste C'è una differenza Prima c'era una differenza perché queste qui hanno la radice più lunga E questa è più corta Il prodotto Wapy Organics fa questo effetto Adesso vi faccio vedere come trattare le foglioline Allora iniziamo da questa Andiamo in questa E andiamo nell'ultima Ok ragazzi Per oggi è tutto Iscrivetevi al nostro canale Wapy Organics Si scrive con la E di Yogurt E Organic Wapy Organics E iscrivetevi anche a Wapy Cooking E per oggi è tutto Ciao 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 Grazie a tutti.